La Regione deve varare la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza nel panorama della sanità e l'appello del Vice Presidente del Consiglio regionale Antonello Peru. Il prolungamento della validità degli idoni alle selezioni per un posto nel comparto sanitario unitamente alle stabilizzazioni del personale ancora non attuate, si legge nell'interrogazione dell'esponente di Forza Italia, potrebbero garantire nuova linfa al sistema che, vista la situazione lavorativa sempre più all'estremo con un organico insufficiente, non è in grado di assicurare efficienza e rispondere in tempi utili alle richieste dei cittadini. È utile ricordare che prorogare le graduatorie è a costo zero. Sarebbe quindi necessario esaurire gli elenchi già esistenti per poi bandire nuovi concorsi e per non venire meno alle aspettative, conclude Peru nel documento degli idoni classificati nelle graduatorie in scadenza che possono essere immediatamente chiamati e assunti.